Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo anche che sono attiva su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Il caso di oggi è particolarmente intricato e delicato. Le dinamiche coinvolte si dipanano come fili sottili, intrecciando una rete di relazioni complesse e oscuri retroscena. Emilia Carr nasce il 4 agosto 1984 e cresce a McIntosh, in Florida, dove vive con i genitori, i due fratelli maggiori e la sorellina minore. L'infanzia di Emilia non trascorre nella spensieratezza perché quando ha solo 4 anni comincia a subire orrendi aborti intimi perpetrati da suo padre e suo nonno. Fortunatamente poco dopo le autorità vengono informate dell'accaduto, così il padre di Emilia viene arrestato con l'accusa di molestie su minori e condannato, ma questo iter non coinvolge anche il nonno. Forse la polizia non è al corrente che anche lui è colpevole degli aborti. In ogni caso, tutti e quattro i bambini vengono portati via dai servizi sociali. Al padre di Emilia viene ordinato di sottoporsi a un programma di riabilitazione previsto dal tribunale, a seguito del quale è stabilito che l'uomo non deve andare in prigione, quindi, di concreto, non sconta nessuna pena. Anzi, gli viene permesso di tornare a casa e in un secondo momento tutti i suoi figli vengono riportati nella sua abitazione. Non capita sempre di rimanere senza parole fin dai primi dettagli biografici dei protagonisti di un caso, ma questa volta per me è così. Insomma, come si può permettere che questi bambini siano nuovamente a stretto contatto con il padre che si era approfittato di una delle figlie? Sia chiaro, non sono contrari ai programmi per riabilitare i detenuti, anzi, le considero necessari, ma se un soggetto compie degli atti così raccapriccianti non solo nei confronti di un minore, ma addirittura sulla propria figlia, serve quantomeno scontare una pena in carcere. Infatti, purtroppo, appena tutti e quattro i bambini tornano a casa, gli abiti ricominciano. Emilia li suberà ancora sia durante l'infanzia che nella fase dell'adolescenza, e sia da parte di suo padre che, di nuovo, di suo nonno. Le autorità però sono convinte che l'uomo abbia giovato del programma di riabilitazione e, purtroppo, la madre di Emilia finge di non accorgersi di nulla mentre è consapevole di quello che succede a sua figlia. Emilia, come immaginabile, cresce immersa nell'ansia e nella paura. Tutte le sere, quando va a letto, è davvero terrorizzata. Ogni volta sa cosa sta per accadere, sa che il rumore delle assi del pavimento che scricchiano fuori dalla sua stanza significa guai per lei. Dietro alla porta della sua camera ci sono suo padre e suo nonno e presto entrambi sarebbero entrati e avrebbero approfittato di lei. Anche quando diventa adolescente, Emilia cerca di tenere nascosta l'ombra che la perseguita, di comportarsi normalmente quando va a scuola. Finge che vada tutto bene, come se il tormento che vive fosse solo un incubo e non un'opprimente realtà. Si concentra sui compiti ed è una ragazza molto intelligente, infatti ha un cui di 125. Emilia pensa che solo dedicandosi all'istruzione potrà trarre il meglio dalla sua vita e soprattutto evadere dalla situazione che vive nell'ambiente domestico. Infatti, anche se ha compiuto 15 anni, in casa nulla è ancora cambiato. Anzi, forse la situazione è addirittura peggiorata. Emilia sospetta che anche sua sorella minore, la tredicenne Milagro, subisca gli avanti che vengono esercitati su di lei. Le due sono davvero tanto legate. Emilia è molto protettiva con la sorellina perché la piccola è nata con 13 difetti congeniti e perché, come si evince, nessun adulto in questa famiglia si prende cura dei bambini. Dunque Emilia si assunta la responsabilità di accudire Milagro e non può tollerare che anche lei subisca queste terribili violenze. Temendo di non riuscire a gestire e risolvere da sola una situazione dalla portata così complessa, finalmente Emilia si reca da un amministratore scolastico e gli racconta tutto. Emilia si dimostra davvero molto coraggiosa, anche se le autorità l'avevano fortemente delusa permettendo a suo padre di tornare a casa con lei e la sorellina. Ha provato ad avere di nuovo fiducia negli adulti e ad agire. Appena il personale della scuola viene a sapere di questo dramma domestico, il padre delle ragazzine viene nuovamente arrestato. Questa volta in occasione dell'imminente processo Emilia, e fortunatamente anche sua madre e sua nonna, sono pronte a testimoniare contro di lui. Intanto l'uomo è in prigione e pensa a come poter sfuggire alla condanna, a evitare di trascorrere anni e anni dietro le sbarre, arrivando a una spietata conclusione, far uccidere sua figlia Emilia, sua moglie e sua suocera da un sicario. Tuttavia ha fatto male i conti perché il sicario a cui si è rivolto in realtà è un poliziotto sotto copertura. Ma io vi chiedo, vi rendete conto della brutalità di questo individuo. Per più di un decennio si è approfittato della sua prima figlia, probabilmente stava facendo lo stesso con la minore, e ha addirittura assoldato un sicario per sterminare le donne della sua famiglia. Una volta che queste azioni sono venute a galla, c'è da aspettarsi che quest'uomo trascorrerà molto tempo in prigione, no? Ci sono a mio avviso tutti i presupposti per rinchiuderlo in una cella e lasciarlo lì per anni e anni. E invece qui c'è da rimanere di nuovo a bocca aperta, perché questo individuo, dall'essenza davvero mostruosa, viene condannato solo a quattro anni di prigione. Sono ormai anni che vi parlo di casi come questo e rimango sempre sbalordita e disgustata nell'apprendere di sentenze così blande quando si tratta di casi intimi, specialmente su minori. In ogni caso, intanto, la vita di Emilia scorre piuttosto bene. Lei ama la fotografia e inizia a dedicarsi alla modellazione fotografica, ma non solo, si iscrive a un programma delle forze armate. Nonostante il suo impegno, Emilia però non riesce a superare i traumi numerosi e ingombranti che la sua mente trascina con sé. Sta lottando con tutta se stessa per stare meglio, ma si sente schiacciata dal senso di colpa per aver mandato suo padre in prigione, sebbene lo meritasse, e per aver separato i membri della sua famiglia. Il colpevole della situazione è quell'uomo, ma è lei che si sente responsabile. Prova anche, giustamente a mio avviso, tanta rabbia nei confronti di sua madre, perché lei non aveva mai impedito al marito di approfittarsi della figlia. Non aveva mai neanche provato a intervenire e a difenderla. Emilia quindi è scossa da emozioni contrastanti, sta cercando di affrontarle, ma è difficile. Alla fine decide di lasciare la casa di sua madre e si sposterà presso varie famiglie affidatarie. Smette di andare a scuola e quando compie 17 anni rimane incinta del suo primo figlio. L'età del consenso in Florida però si raggiunge a 18 anni. Inoltre il padre del bambino è leggermente più grande di Emilia e teme di andare incontro a dei guai perché aveva adescato una ragazzina. Emilia al fine di proteggerlo decide di sposarlo, così avrebbe arginato il rischio che lui finisse in prigione. Questo matrimonio era destinato a fallire fin dagli albore, infatti non passa molto tempo prima che la coppia divorzi. Dopo aver chiuso definitivamente la storia con il padre di suo figlio, Emilia passa da una relazione all'altra. Devo dire che a questo punto della storia sono davvero tanto dispiaciuta per lei. Emilia ne ha davvero passate tante, insomma è una ragazza vulnerabile e non sa riconoscere se un uomo è adatto a lei. La ragazza mette al mondo altri due bambini da uomini diversi e inizia ad essere coinvolta in attività criminali. Sulla sua fedina penale era già emersa una macchia perché aveva aiutato suo marito a commettere un furto di uccelli esotici, un crimine che reputo alquanto bizzarro. Dunque all'età di 21 anni Emilia ha tre figli ed è una mamma single ma si rende conto che le cose devono cambiare, vuole rimettersi in carreggiata perché la sua vita sta prendendo una brutta piega. Così che fa rincomincia a studiare, diventa una masseggiatrice certificata e inizia a guadagnare un discreto stipendio grazie al quale riesce a provvedere alla sua famiglia. Finalmente le cose stanno andando meglio per lei. In questa fase della sua vita Emilia conosce la coppia formata da Joshua Fulgham, detto Josh, e Heather Strong. I due sono poco più che ventenni, hanno circa tre anni in più di Emilia e condividono una relazione da parecchio tempo. Josh nasce il 16 agosto del 1981, cresce nel Mississippi e, proprio come Emilia, vive un'infanzia davvero difficile. Quando Josh ha circa sette anni, sua madre accoglie in casa un nuovo fidanzato terribilmente violento. L'uomo picchia Josh in continuazione che subisce molteplici feriti alla testa. Il ragazzino viene bocciato diverse volte e addirittura ritirato dalla scuola. Mentre sta entrando nell'adolescenza, muore la nonna a cui era tanto affezionato e da questo momento la sua vita precipita senza controllo. Josh inizia ad assumere grandi quantità di alcol e diverse sostanze come strategia adattiva. In psicologia le strategie di adattamento indicano l'insieme dei meccanismi psicologici adattivi messi in atto da un individuo per fronteggiare problemi emotivi e interpersonali allo scopo di gestire, ridurre o tollerare, lo stress e il conflitto. Presto Josh inizia a condurre una vita da criminale, appicca diversi incendi ed esegue furti con scasso. In un'occasione viene catturato mentre sta per irrompere in casa di un uomo con l'intento di rubargli le armi. In pratica Josh è un adolescente che entra ed esce dal riformatorio. Quando compie 16 anni, dopo il rilascio da uno dei suoi periodi di reclusione, Josh incontra Heather, che è una sua coetanea e fa la cameriera. Heather è una ragazza davvero premurosa, ha un bel sorriso stampato sul volto ed è sempre disposta ad aiutare il prossimo. Infatti ha tanti amici ed è molto popolare. I due vanno immediatamente d'accordo, si affezionano l'uno all'altro e ben presto creano un forte legame. Si vedono spesso dunque la loro relazione è molto intensa, ma non molto tempo dopo l'inizio della loro frequentazione, Heather viene aggredita intimamente da un membro della sua famiglia. La ragazzina quindi ha la necessità di lasciare l'ambiente domestico e, anche se lei e Josh stanno insieme da poco, la mamma del ragazzo accoglie Heather a casa sua. Vivendo sotto lo stesso tetto, Heather continua a legare tanto sia con Josh che con sua madre. Quando Heather ha 18 anni rimane incinta. Josh, in vista della nascita del suo primo figlio, mette la testa a posto. Trova un lavoro come costruttore e allestitore di roulotte. Dopo non molto tempo Josh e Heather possono permettersi di prendere una casa tutta per loro e vanno a vivere da soli. La relazione tra i due vago è un fievele. All'inizio sembra tutto perfetto, ma presto le cose cambiano. Una volta lontano da casa della madre, Josh inizia ad assumere una sostanza pericolosa, per intenderci quella che usano in Breaking Bad, e da questo momento la sua vita va letteralmente a rotoli. Tutto il suo mondo comincia a ruotare intorno a questa roba. Quindi Josh perde il lavoro e per finanziare la sua dipendenza inizia a fare il corriere di sostanze. Tuttavia il guadagno che ne consegue non è sufficiente e quindi comincia a cucinare questa sostanza che non è nemmeno l'unica da cui è dipendente. L'assunzione di stupefacenti cambia completamente la sua personalità. Ora Josh è sempre arrabbiato, instabile e violento e presto inizia ad abbracare fisicamente di Heather e a tradirla con numerose altre donne. Heather non intende sopportare tutto questo anche perché ha un figlio e non vuole che il suo bambino cresca in un ambiente nocivo, quindi si trasferisce da sua nonna. Questo accade ripetutamente, più volte Josh si ripulisce e prega Heather di tornare a casa con lui, ma i periodi di tregua sono solo temporanei. Josh le dice che ha smesso di assumere sostanze, che le terrà a distanza e finalmente starà meglio. Heather gli crede, torna a vivere con Josh per un po' di tempo, lui si comporta bene ma poi puntualmente ricade nella dipendenza. Heather quindi torna a casa di sua nonna, Josh allora la prega di tornare e questo circolo malsano non si interrompe. Proprio durante questo periodo caotico Heather rimane di nuovo incinta. Quando la ragazza mette al mondo il bambino, entrambi i genitori concludono che le loro vite sono troppo instabili per crescerlo, così decidono di darli in adozione, per il suo bene. Penso che questo sia stato un punto di svolta, Josh si è reso conto che ha bisogno di dare una raddrizzata alla sua vita e nel 2003 la coppia decide di trasferirsi per concedersi un nuovo inizio. Dal Mississippi quindi si stabiliscono nella contea di Marion, in Florida. È lì che vive l'altra nonna di Josh, la quale vuole aiutarlo a imboccare la retta via. Gli anni passano e Josh ha effettivamente rimesso la sua vita in carreggiata. Tutto procede bene ed è a questo punto che la coppia conosce Emilia Carr. Siamo nel 2006, come detto Emilia ha 21 anni, mentre Heather e Josh ne hanno 24. Emilia sta frequentando Jamie Acom, che è il padre di uno dei suoi figli, ma la loro relazione è problematica, infatti si lasciano e si rimettono insieme molto spesso. Quando Heather e Josh si trasferiscono in Florida, quest'ultimo stringe una forte amicizia con Jamie. È così che i due ragazzi cominciano a uscire insieme con le rispettive fidanzate, Heather ed Emilia. Poco tempo dopo il trasferimento in Florida, Heather rimane incinta di nuovo e intanto Josh ha una ricaduta, rincomincia a usare sostanze. Josh torna a essere particolarmente arrabbiato e violento, si infuria spesso con Heather perché quest'ultima non vuole dormire con lui. Allora Josh va in cerca di compagnia femminile altrove, consuma vari incontri del tutto casuali finché lui ed Emilia iniziano ad avvicinarsi molto. Questa situazione è chiaramente problematica, visto che Emilia sta rifrequentando il migliore amico di Josh. Tuttavia ogni volta che Emilia e Jamie si lasciano la ragazza si avvicina a Josh. Un giorno un altro caro amico in comune muore in un tragico incidente d'auto. Emilia che scopre per prima la notizia informa Josh che reagisce devastato. Apparentemente anche Emilia è sconvolta quindi i due iniziano a consolarsi a vicenda e finiscono a letto insieme. La morte dell'amico sembra quasi un pretesto per dare inizio alla loro relazione. Josh ed Emilia stanno insieme alle spalle di Heather che non nutre alcun sospetto. Josh inizia a vedere Emilia quotidianamente quindi inventa varie scuse per uscire di casa mentre come vi ricordo Heather è incinta. Il tempo passa, Heather partorisce e Josh deve fare il suo dovere. Crescere insieme a lei il bambino appena nato ma appena può si rifugia da Emilia. Questa relazione clandestina va avanti per un anno poi Heather li scopre. Ci resta davvero male, ancora di più perché lei ed Emilia sono amiche, si frequentano spesso. Dopo questo tradimento Heather non ne vuole più sapere di Josh quindi fa le valigie, prende i suoi figli e torna in Mississippi. Josh è sconvolto dalla sua decisione perché solo adesso si rende conto che Heather è la donna che vuole vicino. Non era davvero interessato ad Emilia. Josh è quel tipo di persona che pensa che l'erba del vicino sia sempre più verde finché non la ottiene e allora rivuole il giardino di casa propria. Dunque Josh lascia Emilia e due settimane dopo torna in Mississippi per cercare di riconquistare Heather. La implora di perdonarlo, le promette che non l'avrebbe mai più tradita e, proprio come già successo in passato, Heather gli crede. Per cinque mesi i due vivono tranquilli nel Mississippi, poi decidono di tornare in Florida, nella contè di Marion. Qui le dannose abitudini di Josh riaffiorano. Rincomincia a usare sostanze e a bere, di conseguenza torna a essere violento e le discussioni con Heather aumentano. Quando la coppia si lascia ancora una volta Josh corre di nuovo da Emilia che accetta di riprovarci. Presto però Heather decide di perdonare ancora Josh quindi lui torna da lei come sempre ma la tradisce con Emilia. Questa situazione tossica va avanti per mesi fino a quando Josh, Heather ed Emilia intraprendono una relazione poliamorosa. Ci sono voci, seppure non confermate al 100%, secondo le quali anche Heather ed Emilia stanno insieme. Tuttavia le due accondiscendono a questo triangolo soltanto per accontentare Josh, ma entrambe lo vorrebbero tutto per sé. Arriviamo al giugno del 2008, Heather e Josh hanno 26 anni mentre Emilia ne ha 23. Dunque questa situazione va avanti da circa due anni e Heather ormai è proprio stufa. Lascia Josh, si ripromette di non tornare da lui come in passato e per dare concretezza al suo intento inizia subito un'altra relazione con un uomo di nome Ben. Heather e Ben si sono conosciuti perché lei ha fatto da babysitter ai figli di lui che hanno più o meno la stessa età dei bambini di Heather. Inizialmente si frequentavano come amici ma appena Heather e Josh si lasciano la loro diventa una relazione romantica. Finalmente Heather sta con un bravo ragazzo. Ben la tratta con rispetto e dolcezza. Le cucina anche la cena, la porta fuori per degli appuntamenti romantici, le compra dei regali. I figli di entrambi vanno d'accordo tra loro dunque sembra che Heather dopo tanto patire abbia trovato l'uomo con cui condividere la sua vita. Tuttavia c'è un problema ovvero Josh. Lui non accetta che Heather sia felice con qualcun altro, odia il fatto che lei abbia una nuova relazione. Prima quando lo lasciava rimaneva da sola senza frequentare altri uomini. Stavolta invece è riuscita ad andare avanti con la sua vita. Josh in sostanza diventa completamente ossessionato da Heather e Ben. Inizia a perseguitare entrambi, passa spesso davanti alla loro casa durante la notte e li minaccia individualmente in diverse occasioni. Se non mettono fine alla loro relazione lui li ucciderà. Una volta si presenta davanti a casa loro armato di pistola per dirglielo. Nel frattempo Josh oltre a fare lo stalker continua a stare con Emilia, alla quale non sembra importare della sua fissa per la ex Heather. Io credo che Emilia sia talmente tanto ossessionata da Josh da essere disposta a sopportare un comportamento del genere. Arriviamo a novembre del 2008. Heather e Ben hanno una relazione seria da circa cinque mesi e sembrano tanto felici. Alle minacce di Josh nulla ha fatto seguito. Anche Josh ed Emilia stanno ancora insieme e da quattro mesi aspettano un bambino. Josh chiede a Emilia di sposarlo ed Heather, quando lo viene a sapere, ne rimane ferita. Ora che Josh si è messo l'anima in pace ed è fidanzato con un'altra donna, Heather si rende conto che è ancora innamorata di lui. Forse soffre perché Josh non le aveva mai chiesto di sposarlo nonostante avesse dato alla luce tre figli. Heather così mette fine alla sua relazione con Ben, ricontatta Josh e gli dice che vuole rincominciare una storia con lui. Come ormai sappiamo Josh ha scelto sempre Heather, non Emilia, quindi torna di corsa dalla sua ex anche se aveva appena fatto una proposta di matrimonio a Emilia. Emilia viene lasciata mentre è incinta e addirittura Josh vuole indietro l'anello che le aveva regalato per la proposta di matrimonio. Infatti pochi giorni dopo Josh usa lo stesso gioiello per fare la proposta ad Heather. Trascorso solo un mese Josh ed Heather si sposano in un ufficio del loro comune e dieci minuti dopo essersi scambiati i voti matrimoniali Josh telefona a Emilia con cui ha una conversazione amichevole. Poco dopo le nozze Heather e Josh rincominciano a litigare. Le cose tra loro peggiorano sempre di più al punto che trascorsi dieci giorni Josh punta un fucile in faccia a Heather minacciandola di morte. Heather è davvero spaventata infatti chiama la polizia. Josh viene arrestato e accusato di aggressione aggravata con un'arma da fuoco e viene portato in prigione in attesa del processo. In seguito Heather vende il suo anello di fidanzamento e tre giorni dopo che Josh è stato rinchiuso in prigione inizia una relazione con un altro uomo Jamie Acom. Di certo questo nome vi suona familiare infatti Jamie è già apparso in questa storia si tratta dell'ex di Emilia padre di uno dei suoi figli con cui lei aveva sempre avuto una relazione altalenante. Jamie era anche amico di Josh prima che lui cominciasse ad andare a letto con Emilia. Infine ora i partner si sono scambiati. Heather sta con Jamie mentre Emilia fa visita a Josh in prigione. Josh è molto arrabbiato con Heather perché è stata lei a sbatterlo in cella. Forse lui dimentica che le ha puntato in faccia un fucile minacciando di ucciderla. Secondo Josh però Heather aveva organizzato tutto per portarlo al limite in modo da poter scappare con i loro figli. In questo caso dalle relazioni così complesse e ingarbugliate questa è certamente una sciocchezza che pensa John. Siccome rimugina di continuo la sua rabbia cresce. Intanto Emilia va a trovarli in prigione regolarmente quindi secondo voi ora che succede? Esatto. Josh ed Emilia tornano insieme mentre Heather continua a stare con Jamie. Ogni volta che Josh si dimostra arrabbiato con Heather davanti a Emilia lei lo fomenta proprio perché vuole che l'uscita di scena della sua ex sia definitiva. Emilia dice a Josh che lui deve assicurarsi che Heather non faccia più parte della sua vita altrimenti lei gli porterà via i figli e lui non le rivedrà mai più. Josh sentendo queste parole si agita moltissimo e sempre più rancoroso nei confronti di Heather e ritiene di essere certo che è Emilia la donna giusta per lui come dice alla ragazza. Per poter stare insieme però devono convincere Heather a ritirare le accuse altrimenti Josh rischia di rimanere in carcere anche dopo il processo. In questa situazione assurda c'è un risvolto ancora più bizzarro ovvero Emilia ed Heather adesso sono in ottimi rapporti. Emilia di tanto in tanto fa da babysitter ai figli di Heather quando lei ne ha bisogno tuttavia Emilia non sa ancora che Heather sta uscendo con il suo ex Jamie da cui ha avuto anche un figlio. Emilia quindi prende in atto il piano che ha elaborato con Josh va spesso a casa di Heather e cerca di convincerla a ritirare le accuse contro di lui. Non è minacciosa ma prova a intimidirla. Proprio perché va a trovarla di frequente in questo periodo Emilia scopre che Heather sta uscendo con Jamie. A questo punto Emilia perde il controllo afferra un coltello lo punta alla gola di Heather e inizia a urlarle contro dicendo che deve far cadere le accuse contro Josh. Fortunatamente alla fine si calma ed esce dalla porta principale. Emilia si è infuriata perché Heather esce con un suo ex che se ci pensate è esattamente ciò che sta facendo anche Emilia. Anzi lei era stata pure l'amante di Josh mentre lui stava ancora con Heather. Riconosco che la situazione è ingarbugliata ma Emilia che diritto ha di dire a Heather che non deve fare qualcosa che anche lei ha fatto e sta facendo tuttora? Non so se mi spiego. Emilia fuori di sé va da tutti quelli che conosce e offre loro 500 dollari per andare a casa di Heather e romperle l'osso del collo. Fa questa folle proposta persino a Jamie. I suoi interlocutori non la prendono sul serio ma a Heather giunge voce che Emilia sta cercando di assoldare qualcuno per ucciderla dietro compenso. Heather è comprensibilmente spaventata così cede alla minaccia. Lascia cadere le accuse contro Josh dunque il 6 febbraio 2009 dopo aver passato un mese dietro le sbarre lui viene rilasciato. Josh a questo punto vuole rivedere i suoi figli quindi va a casa di Heather e scopre che la sua ex sta con Jamie dato che ora lui vive da lei ma non è finita qui perché Jamie starebbe anche andando in giro con l'auto di Josh. Josh si infuria di nuovo convinto che Heather l'abbia sostituito con uno che era un suo amico. Inizia a sbraitare contro Jamie e a minacciarlo. Gli avrebbe fatto male. Conclude dicendo che si sarebbe assicurato di ottenere la custodia dei figli. Heather quando sente questo proposito va fuori di testa. Si chiede con che diritto Josh ripiombi nella sua vita per minacciare lei e quelli che le stanno vicino. Heather risponde a Josh che non gli sarà permesso di vedere i bambini finché non cambierà atteggiamento quindi non dice che non gli farà vedere mai più. L'aspetto più triste della vicenda è che purtroppo sono coinvolti tanti bambini infatti Josh e Heather hanno due figli che assistono a tutto questo visto che il figlio di mezzo era stato dato in adozione mentre Emilia ha già tre figli ed è incinta di un quarto bambino figlio di Josh. Josh indomabile è sempre più arrabbiato convinto che Heather tornerà in Mississippi che porterà i bambini via con sé e non gli permetterà di vederli mai più. Emilia è sempre attaccata all'orecchio di Josh pronta a incitarlo all'odio da riversare contro la sua ex. Gli dice che devono vendicarsi in tempo fargliela pagare. L'unica domanda che mi viene da fare è vendetta per cosa? Cosa ha fatto Heather che non abbia fatto anche Emilia? È vero pure Heather non agisce in modo equilibrato soprattutto quando si parla di relazioni amorose ma in questo caso sono tutti abbastanza confusi come si è visto. Passano appena nove giorni dal rilascio di Josh dalla prigione ed Heather scompare. Nessuno ha idea di dove sia. Il 15 febbraio 2009 Heather non si è presentata nel locale dove lavora come cameriera per iniziare il suo turno e questo non è da lei. Era sempre presente e se avesse dovuto assentarsi avrebbe di certo chiamato per avvisare. Inoltre quello stesso giorno Heather aveva telefonato in lacrime al suo compagno Jamie. Era davvero sconvolta mentre gli raccontava di aver appena ricevuto una telefonata minatoria da parte di Josh il quale le aveva detto che sarebbe andato a prendere i loro figli e che lei non li avrebbe rivisti mai più. Heather durante questa chiamata dice a Jamie che aveva accettato di incontrare Josh per cercare di chiarire la situazione. Jamie abituato ai casini tra Josh e Heather non si è preoccupato, ha immaginato che lei fosse triste per quanto lui le aveva detto ma che non ci fosse un vero motivo per cui allarmarsi. Quindi anche se alla luce dei fatti la conversazione risulta sospetta in questo momento a Jamie non è sembrata così strana. Del resto in passato Josh aveva addirittura minacciato Heather di morte imbracciando un fucile e puntandoglielo in faccia. Dunque quando la sera del 15 febbraio Jamie rientra dal lavoro si aspetta di vedere Heather e i suoi figli ma nessuno di loro è in casa. Anche alcuni oggetti personali di Heather sono spariti, sembra che lei abbia fatto i bagagli solo per sé. Jamie prova a chiamare Heather al telefono ma lei non gli risponde e così chiama Josh il quale gli riferisce che Heather è tornata da lui. Ora stanno di nuovo insieme dunque Heather non vuole più parlargli. Jamie che come vi ho detto è abituato a questo tran tran crede alle parole di Josh. Heather l'ha lasciato e se n'è andata. Passano dieci giorni ed Heather ancora non è stata vista da nessuno. Allora Josh dice a tutti che è tornata in Mississippi e ha lasciato i suoi figli a lui perché aveva bisogno di una pausa. Siccome questo modo di comportarsi non è da Heather considerando anche che lei non si fidava della rettitudine di Josh e che mai gli avrebbe affidato i figli per un lungo periodo la gente nutre dei sospetti. Quando ai parenti di Heather nel Mississippi giunge voce delle storie che Josh racconta in giro loro si fanno avanti per smentirle. Dunque scoprono ora che Heather è scomparsa da ben dieci giorni e sporgono denuncia alla polizia. Finalmente gli agenti possono indagare e la prima persona con cui vogliono parlare è Josh. Lui è il padre dei figli di Heather. Risulta essere l'ultima persona ad averla vista e soprattutto lei lo aveva denunciato per violenza domestica. Josh racconta anche alla polizia che Heather ha lasciato i bambini a casa sua e poi è tornata in Mississippi. Mostra pure un documento con la firma di Heather in cui lei gli affida la custodia dei figli. Ma i familiari della ragazza non hanno dubbi. Deve trattarsi di un falso. Heather non avrebbe mai e poi mai fatto una cosa del genere. Anche se la polizia è altrettanto sospettosa non può ancora accusare Josh dato che l'unica cosa che ha in mano è questo documento firmato da Heather. La polizia però lo tiene d'occhio. Poi il 18 marzo, poco più di un mese dopo la scomparsa di Heather, viene allertata del fatto che la carta di credito di Heather è stata usata presso un bancomat per prelevare dei soldi. La polizia controlla immediatamente le telecamere a circuito chiuso del bancomat e scopre l'identità di chi sta utilizzando la carta di credito di Heather. Beh, lo starete immaginando anche voi. È proprio Josh. Questa per la polizia è una prova sufficiente quindi alcuni detective arrestano Josh e lo portano in centrale per sottoporlo a un interrogatorio. In questa circostanza emerge che c'è un'altra persona che ha un presunto ruolo nella scomparsa di Heather. Emilia Carr. Di conseguenza i detective la raggiungono e le chiedono di seguirli per un interrogatorio. Emilia lo fa volontariamente mostrandosi desiderosa di aiutare le indagini. In questo momento alla stazione di polizia c'è già Josh seduto in una stanza e quando arriva Emilia viene accompagnata in un altro ambiente. È lo stesso investigatore a interrogare entrambi andando avanti e indietro. Cerca di convincerli a confessare quello che è successo a Heather. Online in realtà si trovano molti filmati dell'interrogatorio di Emilia che cerca di comportarsi bene e sembra anche piuttosto convincente. Si mostra all'oscuro dei fatti e dice che lei e Heather sono amiche che non hanno mai litigato. Ma la polizia scopre che sta mentendo perché salta fuori l'episodio del coltello che Emilia le aveva puntato alla gola. Poi viene alla luce anche che Emilia aveva provato a offrire 500 dollari a qualcuno che si occupasse di uccidere Heather. A questo punto il detective intensifica la sua marcia tra le stanze dove si trovano Emilia e Josh. A Josh ripete che Emilia sta dicendo la verità confessando quello che è successo quindi ora anche lui deve essere sincero perché lei darà la colpa di tutto a lui. Poi va da Emilia e le riferisce la stessa identica cosa. Josh è indubbiamente sincero e sta confessando quindi anche lei deve dire la verità perché lui le darà la colpa. In pratica gli agenti bleffano con entrambi ed Emilia cede un po' ma vuole tentare di farla franca dunque insinua che c'è Josh dietro la scomparsa di Heather. Dice all'investigatore che racconterà la verità su quello che è successo ma vuole un accordo per ottenere l'immunità. Beh la polizia non può darle ciò che chiede visto che è una potenziale assassina. Gli interrogatori di Heather e Josh si svolgono nell'arco di un paio di giorni quindi sono molto lunghi. A un certo punto la polizia fa una più intensa pressione su Josh e lui a differenza di Emilia crolla. Dice non l'ho uccisa io ma sono comunque colpevole per poi raccontare cosa è successo a Heather. Gli ho spiegato che Josh si era messo in testa anche grazie all'influenza di Emilia che Heather avrebbe portato via i loro figli per non farglieli vedere mai più. Josh ne era ormai convinto perché Emilia glielo ripeteva in continuazione. Il 15 febbraio il giorno in cui Heather è scomparsa Josh ha deciso con l'aiuto di Emilia che avrebbe preso provvedimenti a riguardo. Volevano che Heather uscisse dalle loro vite. Prima di tutto decidono di attirare Heather nella roulotte di Emilia. Josh racconta che le aveva promesso dei soldi tuttavia la famiglia di Heather è convinta che lei non si sarebbe mai lasciata convincere da questa proposta economica e che aveva troppa paura di Josh. Secondo la versione di lui lei va a casa sua con i bambini che rimangono lì mentre in qualche modo Josh riesce a portare Heather nella roulotte di Emilia. Una volta entrati nella roulotte Josh ed Heather cominciano a litigare. Allora Emilia sbuca fuori e colpisce Heather in testa con una torcia. Heather cade a terra e Josh la trascina e la obbliga a sedersi su una sedia. Le lega a braccia e gambe con del nastro adesivo che usa pure per tapparle la bocca. A questo punto Josh inizia a lamentarsi con Heather e le dice che lei gli ha rovinato la vita che è tutta colpa sua se era andato in prigione e ora gli vuole anche portare via i figli. Così tira fuori quel documento per ottenere la custodia dei bambini e pretende che Heather lo firmi. Inizialmente lei si rifiuta ma poi Josh diventa aggressivo. Vi ho già detto che è una persona particolarmente violenta. Josh minaccia Heather, le dice che se non avesse sottoscritto il foglio lui l'avrebbe uccisa e deve essere stato convincente perché lei alla fine cede. Credo che questa storia per quanto già problematica avrebbe potuto finire qui visto che Josh aveva ottenuto quello che voleva. Ma purtroppo ora si fa avanti Emilia che dice a Josh beh non possiamo mica lasciarla vivere. Heather troverà un modo per fregarti di nuovo. Josh ahimè si è trovato d'accordo con lei. Sono sulla stessa lunghezza d'onda, entrambi colpevoli. Nessuno ha obbligato l'altro a fare qualcosa che non voleva. Infatti decidono insieme che l'unico modo per uscire da questa situazione è uccidere Heather. Emilia prova a romperle l'osso del collo. Come sapete lei è una massaggiatrice ed è sicura di riuscire a trovare i giusti punti di pressione per spezzare il collo della sua vittima facilmente. Tuttavia constata che non è abbastanza forte per farlo. Allora lei e Josh infilano un sacchetto sulla testa della povera Heather per poi mettere del nastro adesivo intorno al sacco all'altezza del collo. Cercano così di soffocarla ma neanche questa torrella si rivela funzionale all'orribile scopo. Infine Emilia si avvicina con calma a Heather e le prime le dita sulle narici. Così. Le tappa il naso visto che la bocca è già coperta dal nastro adesivo impedendole di respirare. Heather lotta con tutte le sue forze per sopravvivere ma di lì a poco collassa e muore. In seguito Josh ed Emilia infilano il suo corpo in una valigia e poi più tardi quando non ci sono tante persone in giro seppelliscono il bagaglio nel giardino sul retro. Josh guida gli investigatori sul posto adesso loro hanno delle prove evidenti e la sua confessione ma manca ancora quella di Emilia. Nessuna prova concreta determina che Emilia è coinvolta hanno soltanto le parole di Josh. Emilia è molto più astuta di lui in effetti gli investigatori non sanno come destreggiarsi affinché lei si esponga finché alla stazione di polizia arriva Michelle la sorella di Josh che sa come ottenere la confessione di Emilia. Michelle non vuole che suo fratello si prenda la colpa del crimine da solo quindi si prepara a incontrare Emilia indossando un microfono nascosto. Le due si danno appuntamento per fare un giro e Michelle cerca di convincere Emilia ad aprirsi con lei. Sono piuttosto legate dunque questo incontro non è un evento insolito. Michelle continua a dire a Emilia che vuole sapere la verità ma Emilia risponde che sarebbe troppo doloroso per lei meglio che ne resti all'oscuro. Tuttavia siccome Michelle insiste spiegando che è molto più doloroso ignorare la verità Emilia che si fida di lei finisce con il raccontarle ciò che è successo. Emilia quindi ammette che è stata lei a cercare di rompere l'osso del collo a Heather. Entrambi sono coinvolti in questo crimine. La polizia nel frattempo ha ascoltato tutta la conversazione e quindi finalmente ha raccolto la prova di cui aveva bisogno. Emilia e Josh vengono accusati entrambi di omicidio di primo grado. Emilia è rinchiuse in prigione in attesa del processo e meno di un mese dopo partorisce ma non vedrà mai il suo figlio perché le viene sottratto immediatamente e dato in adozione come è giusto che sia. Dopo poco tempo anche i tre figli di Emilia e i due figli di Heather e Josh vengono dati in affidamento. Circa 18 mesi dopo nel 2010 il caso va finalmente in tribunale. Il primo processo è quello di Emilia che si dichiara non colpevole. La difesa vuole convincere la giuria che l'imputata è innocente perché era sotto l'influenza di Josh. Insomma era lui ad aver organizzato il piano e lei lo temeva tanto quindi si era vista costretta a collaborare per salvarsi la vita. All'accusa per controbattere è sufficiente riprodurre la confessione che era stata registrata. Al momento del verdetto il 10 dicembre 2010 i giurati ritengono che Emilia Carr è colpevole di omicidio di primo grado e ora devono decidere se condannarla a morte o meno. La maggioranza cioè sette giurati su 12 vota a favore della pena di morte a cui Emilia Carr viene quindi condannata all'età di 24 anni. Più di un anno dopo è Josh che va a processo e anche lui si dichiara non colpevole. Tuttavia anche Josh viene giudicato colpevole di omicidio di primo grado dalla giuria ma nel suo caso solo 4 giurati su 12 sono favorevoli alla pena di morte. Quindi Joshua Fulgam viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per lo stesso identico reato commesso da Emilia. Devo sottolineare che è stata Emilia a uccidere materialmente Heather. Hanno pianificato insieme l'omicidio sì ma è stata lei a tappare il naso di Heather per soffocarla. Ecco il motivo per cui Emilia ha ricevuto la pena capitale mentre Josh no. Dopo la sua condanna Emilia intraprende una campagna nel tentativo di provare la sua innocenza. Rilascia una serie di interviste di cui una insieme alla detenuta Tiffany Cole. Il suo caso vi ho parlato in un video a lei dedicato. Insieme ad alcuni complici Tiffany ha sequestrato e sepolto vivi due anziani coniugi che le volevano un sacco di bene anzi la consideravano come una seconda figlia tutto per rubare loro dei soldi. Tornando ad Emilia siccome al momento della condanna aveva solo 24 anni è la donna più giovane rinchiusa nel braccio della morte. Nel 2017 dopo numerosi appelli dato che la giuria non ha votato all'unanimità per la pena di morte la condanna di Emilia viene commutata in ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Anche se Emilia e Josh incarnano una coppia di assassini è Emilia a ricevere più attenzioni e critiche. Ho notato onestamente che anche in altri casi dinanzi a due colpevoli è la donna che viene considerata come la peggiore, quella che non merita sconti. C'è però una differenza tra Emilia e Josh. Lui dopo l'omicidio della ex moglie ha mostrato rimorso. Questo non riporterà in vita Heather ma almeno Josh si è dimostrato pentito e si è assunto la responsabilità delle sue azioni. Emilia invece ha continuato a negare la propria colpevolezza sostenendo che era tutta opera di Josh e non ha mai mostrato alcun rimorso. Prima di concludere questo video parliamo un momento della vittima della vicenda Heather Strong. Lei è stata descritta dai suoi familiari come una giovane donna gentile, premurosa e amorevole. Aveva con sé due figli che amava più di ogni altra cosa al mondo e lavorava duramente per dar loro ciò che desideravano. Heather era tanto legata alla sua famiglia nel Mississippi. Infatti i suoi parenti sono devastati così come i suoi figli che hanno perso per sempre la mamma. Heather aveva la vita davanti ma è stata uccisa a soli 26 anni. Questo caso è profondamente straziante perché come detto coinvolge anche tanti bambini piccoli e innocenti. Quella che vi sto per dire è una mia opinione. Credo che Josh ed Emilia siano colpevoli allo stesso modo e ritengo che da separati non avrebbero mai commesso un omicidio. Hanno nutrito a vicenda i loro rispettivi rancori verso Heather. Emilia già la odiava perché tante volte si era ripresa Josh e perché aveva iniziato a frequentare Jamie, il suo ex, e ha incitato continuamente Josh che già aveva un carattere violento e instabile. Heather alla fine ha perso la vita brutalmente e inutilmente, vittima di un piano meschino. Quanto assurdo! I suoi carnefici hanno strappato a dei bambini la possibilità di crescere accanto alla loro mamma. Dunque sono delle vittime anche loro, compresi i figli di Emilia. A questi piccoli va il mio ultimo pensiero nella speranza che dovunque si trovino oggi e qualunque cosa stiano facendo siano felici e in salute. Me lo auguro davvero con tutto il cuore. Allora io ho finito di parlare di questo caso in questo video. Ho già dato le mie opinioni finali, quindi sono curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni. Sono molto molto curiosa di sapere che cosa ne pensate. Quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti e nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendete cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti.